La tradizione dei lumineri si è rinnovata ieri sera a Cannobio, come sempre con una grande partecipazione di pubblico e con un centro storico ed un lungo lago illuminati da migliaia di fiammelle. Una celebrazione giunta alla 497esima edizione e che già guarda e si prepara al quinto centenario che cadrà nel 2020. Lo ha anticipato il prevosto di Cannobio, Don Mauro Caglio. La messa solenne ha visto in prima fila autorità civili e militari e poi tanti fedeli ed è stata presieduta dal vicario generale Fausto Cossalter. Il monsignore ha portato i saluti del vescovo e sottolineato la bellezza di questa cerimonia che ha raccolto tutti i presenti attorno ad un segno piccolo ma straordinario, ha spiegato parlando di una comunità che si prepara ai 500 anni del miracolo definendola non solo una data ma una bella occasione per lasciarci coinvolgere ed abbracciare dal mistero della morte e resurrezione di Gesù. I prossimi tre anni saranno dedicati all'approfondimento dei personaggi raffigurati nella pergamina del miracolo della Sacra Costa, Cristo, la Madonna e San Giovanni. A quest'ultimo peraltro è dedicato l'anno ecclesiastico della nostra diocesi. Spettacolare la discesa della Sacra Costa dalla cupola della parrocchiale è stato uno dei momenti più emozionanti della celebrazione. Dopo il bacio della reliquia, la processione all'interno del centro storico di Cannobio, lungo via Umberto I e sul lungo lago con la benedizione dell'acqua e delle barche. Il freddo della notte si è distolto in un'atmosfera ovattata di pace e preghiera caratteristica di questa grande manifestazione di religiosità popolare. I fedeli di tutte le età con la fiaccola in mano hanno accompagnato la Sacra Costa nel buio della notte con i lumini posati su davanzali, tavolini, balconi, muretti, gradini, camminamenti, barche. C'erano cannobiesi ma anche persone provenienti dalla vicina Svizzera e da fuori zona. All'origine della festa i fatti miracolosi che si verificarono a gennaio 1522 nell'osteria di Tommaso Zaccheo, la perdita di sangue e di una costola da un dipinto su pergamena della Pietà di Cristo. La Sacra Costa venne raccolta in un calice e portata in processione nella parrocchiale di San Vittore dove ancora oggi è custodita in un reliquiario donato dal cardinale Federico Borromio. La processione è giunta fino al santuario da dove oggi la Sacra Costa è ripartita per il ritorno alla collegiata di San Vittore.